Ben ritrovati al consueto spazio riservato agli appuntamenti. Una finanza senza legge, detta legge, massacrando l'economia e la vita di miliardi di persone. L'ingresso è alle 21, la prenotazione consigliata. Sempre giovedì, al Druso Circus di Bergamo, alle 21.45, serata jazz con Pietro Bonelli alla chitarra, Mario Zara al pianoforte, Ezio Salfa al basso e Giorgio Di Tullio alla batteria. Il costo della serata è di 5 euro con tessera. Venerdì 1 marzo, alle 20.30, ci sarà un incontro di filosofia con il professor Vincenzo Leone per parlare dell'uomo animale razionale. L'appuntamento è a San Pellegrino Terme, presso la Sala Putti. E per finire, sempre venerdì, all'auditorio in comunale di Terno d'Isola, alle 20.45, andrà in scena una divertente commedia dal titolo Parigi val bene una vasca. Le bugie e la confusione che si scatenano in un rapporto di coppia.